E ciao a tutti ragazzi vi do il benvenuto in questo nuovissimo video innanzitutto vi auguro un buon giovedì mattina a tutti mi perdonerete sicuramente se non mi mostro in viso ma attualmente non mi trovo in ufficio ma mi sembra molto più importante andare ad aggiornarvi su ciò che sta succedendo all'interno del mercato delle criptovalute allora partiamo immediatamente senza perdere tempo con la visuale su investing.com perché oggi è la giornata più calda di questa settimana infatti ci sono i deposit facility rate in eurozona ma soprattutto ci sarà l'interest rate decision ovvero la decisione sui tassi di interesse della banca centrale europea ci aspettiamo una stazionalità dei tassi un po' come le sessioni precedenti la sessione precedente infatti possiamo vedere che abbiamo un dato precedente di 4,5 un forecast ovvero un'aspettativa di mercato di 4,5 e staremo a vedere che dato uscirà inoltre vi ricordo che dopo mezz'ora alle 14.45 ci sarà la lagarde che parlerà e ci farà un po' capire i prossimi andamenti a livello di politica monetaria della banca centrale europea tra l'altro abbiamo il GDP ovvero il PIL in zona statunitense ma passiamo con il mercato cripto infatti ragazzi la SEC inizia a parlare un po' degli ETF a replica spot però su Ethereum dopo l'approvazione quelli lì di Bitcoin che stanno generando un bel tumulto come andremo a vedere anche all'interno di questo video ma in realtà l'abbiamo già contestualizzato negli scorsi video dato che Grayscale sta vendendo ovviamente sotto richiesta dei propri clienti un sacco di shares del proprio Grayscale Bitcoin Trust a favore almeno in parte dei concorrenti ovvero l'ETF spot di BlackRock, Ashki eccetera eccetera e tutta questa situazione sta generando un sacco di selling pressure all'interno del mercato cripto moltissimi analisti tuttavia ritengono molto più complicata la situazione degli ETF replica spot proprio su Ethereum proprio per la natura del sottostante dato che comunque stiamo parlando di una criptovaluta ovvero Ethereum che è vista in modo più complesso rispetto a Bitcoin almeno dal punto di vista della SEC e soprattutto dietro non ci sono delle dispute a livello legale che magari spingono per una possibile approvazione infatti sappiamo benissimo quanto la causa di Grayscale contro la SEC e gli esiti di questa causa hanno spinto maggiormente la SEC hanno fatto pressione sulla SEC per l'approvazione del Bitcoin ETF in questo caso su Ethereum non c'è tutta questa situazione e gli analisti di Bloomberg stanno bettando che per un 70% o meglio un 70-30% sull'approvazione di questi ultimi ETF spot nel frattempo comunque sia gli risultati e le evidenze le possiamo vedere ovvero che nelle ultime ore la SEC ha ritardato il BlackRock spot ETF decision staremo a vedere e soprattutto vi aggiornerò sull'evoluzione di questa situazione in relazione agli ETF spot su Ethereum passiamo però alla situazione sempre ETF spot però su Bitcoin infatti possiamo vedere come VanEck e Wisdom3 o meglio gli address di questi ultimi due enti sono adesso disponibili su Arkham infatti possiamo visionare onchain gli address relativi proprio a questi strumenti finanziari perché sapete benissimo essendo degli ETF spot devono tenere il sottostante e gli address di VanEck e Wisdom3 ma che poi in realtà sono disponibili anche quelli di BlackRock, Fidelity, Bitwise e Franklin Templeton sono disponibili per la visione al pubblico attraverso lo strumento di analitica Arkham tra l'altro sempre in relazione a questa situazione Bitwise è il primo proprietario di questi strumenti che ha pubblicato ufficialmente i propri address nei vari documenti infatti possiamo vedere che possiamo trovare nelle informazioni per quanto riguarda questo strumento il Bitcoin address in modo che chiunque possa andare a controllare il sottostante in questo caso stiamo parlando di 11.858 Bitcoin all'interno del Trust come sottostante per un market value di 465 milioni di dollari insomma c'è una situazione molto importante tirata fuori appunto da Adam Beck Adam Beck per chi non lo conoscesse è una delle persone più influenti per quanto riguarda appunto Bitcoin infatti è il co-founder e il CEO di Blockstream è l'inventore di AshCash insomma diciamo che non è l'ultimo scappato di casa e tantissimi vociferano come uno dei possibili Satoshi Nakamoto possa essere lui comunque al di là di queste dicerie che non sono confermate assolutamente da nessuno possiamo vedere come secondo una sua analisi secondo una sua riflessione fatta proprio su Twitter ha detto che l'alving di Bitcoin potrebbe essere meno influente a livello di price action e a livello di volumi rispetto l'impatto che potrebbero avere questi ETF spot in zona statunitense infatti lui ritiene che questi ultimi strumenti lanciati da pochissimo sul mercato possano veicolare attraverso ovviamente la reputazione di BlackRock e tutti questi grandi fondi che fanno propaganda positiva si spera positiva ovviamente per Bitcoin possa attrarre investitori che invece non avrebbero mai investito non si avrebbero mai sposti in Bitcoin infatti ha dichiarato che secondo lui che gli ETF potrebbero avere un impatto sul prezzo di Bitcoin del sottostante ovviamente ancora maggiore rispetto all'alving stesso un'altra buona notizia di oggi è che Tesla secondo il report del Quarter 4 a livello societario non ha venduto nemmeno uno dei suoi Bitcoin volevo mostrarvi però un grafico molto interessante dove ci riporta il comportamento sia degli Sharks che delle Whales comunque per contestualizzare gli Sharks sono quei detentori quei wallet che detengono tra i 100 e i 1000 Bitcoin le Whales invece quelle che detengono più di 1000 Bitcoin stiamo vedendo degli inflow negli ultimi tempi abbastanza importanti infatti proprio a partire da inizio gennaio sia le Sharks soprattutto che le Whales stanno mandando verso gli exchange e di conseguenza possibile selling pressure varie detenzioni di questi Bitcoin a mio modo di vedere è normale che sia così soprattutto per quanto riguarda la situazione a metà gennaio dato che avevamo visto Bitcoin a 49 mila dollari quasi e il fatto che parte almeno delle detenzioni di questi player a mercato vadano ad essere vendute magari per fare profitto non ci vedo niente assolutamente di sbagliato non siamo ai livelli di top per quanto riguarda i cicli di alzisti di mercato però comunque sia diciamo che anche questo oltre a tutta la situazione di Grayscale diciamo che anche quest'ultimo fattore sta contribuendo ad alzare la selling pressure andiamo a vedere come si sta comportando il mercato abbiamo un mercato tendenzialmente in ripresa abbiamo per esempio HNT che guadagna un 25,5% questo seguito anche di una partnership molto importante che comunque se volete approfondire HNT fatemelo sapere qui sotto nei commenti che a mio modo di vedere potrebbe essere molto interessante poi abbiamo Manta che guadagna un 23,1% TAU un 9,2% in linea generale possiamo vedere che comunque la maggior parte delle bolle sono in verde passiamo con CoinMarketCap CoinMarketCap possiamo vedere che Bitcoin rimane stabile come anche Ethereum nell'ultime 24 ore Bitcoin si assessa a 39.800 dollari circa scende sotto la soglia psicologica di 40.000 dollari e adesso andiamo a vedere perché purtroppo sta dimostrando nonostante il bounce molta debolezza nel recuperare terreno e Ethereum comunque allo stesso modo perde i 2.400 dollari ormai da tempo infatti attualmente si assesta a 2.200 dollari circa passiamo a Bitcoin ragazzi Bitcoin se prendiamo in considerazione l'ultimo swing ribassista ovvero a partire da questo massimo del 19 gennaio 2024 fino al minimo toccato 23 gennaio 2024 abbiamo subito un bounce bounce che però ragazzi ha reagito esattamente tra la zona del 61.8 e la zona degli 0.5 di Fibonacci questo per adesso sembra soltanto un ritracciamento che tra l'altro questo ce lo fa pensare anche data l'entità di queste candele perché a parte la candela del 23 gennaio 2024 che ha riassorbito gran parte della candela precedente questo ovviamente è un grafico a 8 ore in modo da avere una situazione leggermente più nello specifico non sono voluto andare sul 4 ore perché altrimenti avevamo troppe informazioni però comunque sia sull'8 ore si vede molto bene quanto questo impulso è stato potente è stato riassorbito queste ultime candele possiamo vedere come in realtà dimostrano molta debolezza e incertezza da parte dei buyers infatti quel che mi sarebbe piaciuto vedere è almeno un bitcoin bello deciso sopra i 40.900 dollari come ho detto negli discorsi video così non è stato anzi tra l'altro oggi parte abbastanza male infatti dopo una candela precedente con una grossa shadow verso il basso che ci fa capire come sì i bulls siano leggermente in padronanza però in realtà abbiamo aperto e chiuso nello stesso livello e ci evidenzia come in realtà i sellers sono ancora presenti purtroppo ragazzi almeno che noi non andiamo nella giornata di oggi come ho detto prima a superare i 40.800 dollari le possibilità di una continuazione verso il ribasso o un ritest della zona dei 38.500 dollari comunque sia il minimi toccati negli ultimi tempi è sempre più probabile questo perché? perché ci dimostra un sacco di debolezza bitcoin nonostante il bounce come ho detto prima andiamo a vedere liquidation liquidation però ci dicono un'altra cosa interessante se andiamo a prendere il grafico a one week ovvero una settimana possiamo vedere che sì stiamo accumulando zone di liquidità sotto ok? però la maggior parte degli interessi li abbiamo sopra infatti se noi andiamo a sommare tutte queste zone che si trovano tra i 42.000 dollari fino ai 42.300 più o meno stiamo parlando di un miliardo di liquidation leverage il che non è assolutamente poco un miliardo che si sta derivando da tutti quei player che si stanno posizionando short in vista della debolezza di bitcoin quindi ragazzi attenzione è una situazione molto complicata dato che ci troviamo in una zona molto importante andare a shortare qui dopo che siamo andati molto in basso alla cieca è molto pericoloso anche se bitcoin sta dimostrando molta debolezza è anche vero che però nel breve termine almeno per adesso almeno nella mia situazione non mi sto esponendo infatti valuterò delle posizioni magari long qualora rivedo dei volumi e vedo bitcoin appunto sfondare verso l'alto sui 40.600-40.700 oppure la situazione inversa qualora vedo bitcoin che sfonda i livelli verso il basso attualmente siamo in una situazione molto di limbo e a mio modo di vedere per la mia operatività preferisco stare a osservare momentaneamente ciò che succede al mercato passiamo con ethereum ethereum ragazzi ormai abbiamo riassorbito tutto il pump che abbiamo assistito dal 10 gennaio 2024 che ha portato ethereum da 2004 fino ai 2700 dollari attualmente è totalmente invariata questo scenario praticamente come se non ci fosse stato e siamo orientati all'interno del range tra l'altro abbiamo ritestato anche quasi le pareti inferiori di questo range anche qui ragazzi è molto molto particolare la situazione una cosa è certa i mercati sono assolutamente deboli e ne stanno risentendo di tutte quelle movimentazioni portate dagli etf spot ragazzi siamo arrivati alla fine di questo video vi lascio tutti i link in descrizione per iscrivervi ovviamente ai vari exchange se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale noi ci vediamo nel video di domani ciao